anzi anzi te la metto così era questa però è versione palinzesto la metto uguale vai sigla il giudizio il giudizio che cosa consiste il giudizio adesso io ti streamerò lo schermo e tu mi dovrai dire in poche parole che cosa ne pensi di questa persona ok questo streamer insomma vabbè tanto lo vedo eh livio vai mister flame mister flame ottimo amico a livello personale ha un fratello grande organizzazione grande organizzatore dei video grande ideatore sia dei titoli clickbait che è grande montatore cioè è un grande montatore è bravo e secondo me è un buon anche un buon intrattenitore perfetto prossima persona ti ho detto vedi lo schermo che te l'ho streammato ma no mi piace ma mi piace vederlo con tutti scusami no va bene dudub in testa di cazzo ok no scherzo scherzo no scherzo no no scherzo pure lui è brava persona geniale ma certe volte si perde in un bicchier d'acqua dico nella vita reale ottimo musicista secondo me ha fatto bene tutto quello che ha fatto però deve deve fare di più ok ok prossima persona chi sarà mai no no lo vedi dopo tu io lo vedo con la chat no tu lo vedi dopo vai davide ok davide ottimo interlocutore sa sa con youtube secondo me ancora deve deve dare il suo ma ha fatto dei video che mi hanno fatto ammassate risate tipo quello tipo quello su rosario ne sa tanto del cinema amar cord si sta crescendo pure su youtube dipende se c'è un pubblico di nicchia diciamo su youtube pubblico di nicchia? di nicchia di nicchia nicchia ah ok ok va 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 alla grande sta andando alla grande ok anche se secondo me non te dovevi togliere le treccine mannaggia meglio pelato molto egocentrico si è molto egocentrico mar molto egocentrico ok quello è vero prossimo social boom social boom allora lo conosco come persona non ci ho mai discusso fondamentalmente fa il suo lavoro non mi ha mai fatto un cazzo l'unica volta che ci ho discusso ultimamente è perché perché secondo me ha fatto una cosa che lui ancora nega cosa? secondo me si era messo d'accordo secondo me si era messo d'accordo Julius Maluma è un rapper per pubblicizzarlo ma lui dice di no è stato furbo perché ha sfruttato l'uomo medio italiano che che a noi c'è piacere gossip e quindi ha fatto sto format qua poi ci stanno certe cose che sbaglia come di l'indirizzo dei Fedez o ricarica magari storie che vanno perdute ma vanno perdute per un determinato per un determinato motivo e lui le pia cioè però vabbè secondo me una delle peggiori uno dei peggiori canali su youtube italia è un freebooting fatto male però vabbè però tu lo vedi però la gente lo vede io non lo vedo ma tu non lo vedi però molte persone lo vedono lui ha sfruttato molte cose vengono viste e fanno cacare cioè lui è un freebooter che fa l'intro cioè manco il freebooting che sai fare esatto ma neanche il freebooter ma no è stato furbo ha portato una cosa nuova tra virgolette tra virgolette secondo me è possibile criticarlo in tutti i modi però ha portato una cosa nuova e ci ha fatto un lavoro per fare un intro al freebooting perché non l'hai fatto te perché è una cosa ignobile no perché lui ci ha pensato e tu no è una cosa vergognosa allora comunque nuova su youtube nuova su youtube prossima persona sono stronzi 500.000 persone e milione e chi cazzo ah Luke beh Luke in questo momento storico non mi esprimo ha esagerato secondo me con l'ultima live proprio cioè con l'ultima live è stato qualcosa di ma sia contro di te contro di me non capisco proprio ho capito io dentro quando parlavo facevo quelle cose mi sentivo imbarazzato cioè non capivo capivo perché portava avanti questa guerra su cosa cioè delle cose allucinanti quindi io non il fatto è che non era mai successo nulla con lui però è risaputo che lui comunque discute con tante persone no con tante e quindi cioè che vuoi dire che vuoi fare prossima persona prossima persona ultima anche da dario moccia raga un grande io devo a me mi fa ammazzata le risate Non c'ho Tutte persone Che non c'ho da dire più di tanto Dario Moch Ma social boom Io sto facendo un video dove lo difendo Figurate Ti metto non mi piace Vedi sei un coglione Perché non sai nemmeno No sei un coglione Perché non sai nemmeno quello che dico E sei il classico bambino che vede il titolo e basta E non va a vedere il contenuto se fai così Non mi piace Non mi piace allora Ma quale contenuto porta Questo Quando dove Che cosa Tu sai di che cosa parlerò in questo video No E allora che cazzo metti non mi piace Porco a pinci Mi sono trattenuto pure Vediamo vediamo Perché è un messaggio positivo Verso le persone Una cosa che a me sta sul cazzo Ma chi questo Livio porca madonna Livio mi stai facendo Ti giuro Mo' mi escono i buboni come Homer Quando si in cazza Ti sto dicendo Io sto facendo questo video Perché Questo ragazzo Volente o nolente È stato picchiato A buffo Da dei ragazzi Allora Una cosa è il web Una cosa è la vita reale Vabbè certo Aspetta La violenza Ovvio Esatto Perché Cosa succede In questo periodo storico Dove gli estremismi Portano hype E da Da che cosa è evoluta Da sta cosa Da determinati personaggi Tipo Jordan Jeffrey Eccetera Eccetera I ragazzi più giovani Che vanno fare il pettino Del momento E fa successo Emulano questa cosa E vanno magari A picchiare un social boom Che lì per lì Non ci entra un cazzo Perché magari dicono Ah ma tu hai messo la storia Al mio cantante preferito Capito Sei un cretino Perché il tuo cantante preferito Tu non conti un cazzo Per lui E se vai a picchiare Un'altra persona I guai ci passi te A quel cantante Gne ne frega un cazzo De te Sei solo una banconota Che cammina Cretino Capito Vai a picchiare la gente Poi il cantante Se ne sbatta il cazzo E tu vai a Argabbio Vai Come cazzo Do cazzo vai Do cazzo Capito Cioè per un po' Di popolarità C'è stanno degli estremismi Proprio Ma fatte la cosa tua Ma do cazzo vai Che meni Fai pipa peppe Ma do cazzo vai Ma se sei bravo Spopoli C'è cazzo da fa Qualcuno Te noterà un giorno Anche se ci stanno Tanti artisti di strada Che purtroppo Sono bravi E rimangono sulla strada Però Che picchiare la gente Per fare il dischetto tuo De merda Non serve un cazzo Certo Io poi ti levo pure casa Ti levo pure la tua mamma Ti levo tutti Ti levo pure il cane E me lo tengo a casa mia Pezzo di merda Ok Ok Pazzo si ci stanno Mi garabo Certo Come Mi muore la opera Certo 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 Grazie a tutti.